Poveri. Di agitazione del settore che ci preoccupa ovviamente perché gli scioperi fanno male le imprese, per cui li subiremo cercando quelli che sono gli accorgimenti necessari per limitarne i danni, ma noi ci aspettiamo un atteggiamento responsabile da parte delle organizzazioni sindacali, con la disdetta non finisce una storia di relazioni sindacali improntate anche a tanti valori.